Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Ragazzi torniamo a parlare di Juventus perché in maniera veramente inaspettata dobbiamo commentare la foto che tutti sicuramente avete visto sui social La fotografia che ritrae Massimiliano Allegri fuori da un albergo a Monte Carlo in compagnia di Luis Campos Quello che è diventato il direttore tecnico del Paris Saint Germain da qualche settimana Ebbene questa foto come è facilmente prevedibile in questi casi ha veramente scatenato un putiferio sui social E è andato appunto a impazzire il web Cosa ci fa Massimiliano Allegri in compagnia di Luis Campos il nuovo Deo Ex Machina del mercato parigino Davanti tra l'altro all'Hotel de Paris di Monte Carlo Una fotografia che ha fatto ovviamente il giro del mondo, il giro del web Perché da un lato abbiamo il Paris Saint Germain che non ha ancora annunciato il nuovo allenatore E dobbiamo essere onesti non ha ancora neanche annunciato l'esonero di Posettino Che ovviamente è un esonero scontato ma anche lo stesso Maurizio Posettino Ha praticamente certificato sui social il suo addio al Paris Saint Germain Dall'altro lato abbiamo il tecnico della Juventus che è sempre nell'ultimo periodo Stato chiacchierato appunto da un punto di vista di un suo ipotetico addio alla Juventus Perché c'è comunque un lato della tipositiva della Juventus e io rientro in questo lato Che comunque vorrebbe l'addio di Massimiliano Allegri anche da un punto di vista della coerenza Nel senso Sarri ha vinto lo Scudetto ma solo quello ed è stato cacciato Pirlo ha vinto Supercoppa e Coppa Italia ma non ha vinto lo Scudetto ed è stato cacciato Allegri ha fatto zero assoluto, zero titoli e quindi di regola la coerenza voglia Che appunto Massimiliano Allegri possa venire messo addirittura in discussione Ed ecco quindi come appunto preparare la tempesta perfetta Perché i fatti raccontano di un Massimiliano Allegri che si è ufficialmente incontrato con Luis Campos La fotografia non è una fotografia vecchia magari di qualche anno No assolutamente è una fotografia che sarà scattata effettivamente martedì 14 E quindi sarà scattata nella giornata di ieri Raccontiamo quella che è la versione ufficiale e poi quello che è il mio pensiero al riguardo Partiamo dai fatti Massimiliano Allegri è in vacanza con degli amici nel Principato L'hanno praticamente raccontato tutti i giornalisti e in effetti ha veramente incontrato Proprio martedì 14 il direttore dell'area tecnica del Paris Saint Germain Luis Campos L'albergo è un noto albergo di Monte Carlo Massimiliano Allegri ci stava passando le vacanze Luis Campos considera questo albergo come uno dei suoi punti strategici Dove appunto pianificare il suo lavoro Massimiliano Allegri e Luis Campos versione ufficiale Si conoscono da tanto tempo e sono in buoni rapporti Del resto è stato lo stesso Campos a fare da consigliere personale a Florentino Perez Quando lo stesso Perez doveva lo scorso anno scegliere il nuovo allenatore, il nuovo manager del Real Madrid Ebbene proprio lo stesso Campos avrebbe fatto il nome di Massimiliano Allegri Ora Luis Campos ha ereditato il lavoro di Leonardo Che è stato un po' definito il capro espriatorio del flop parigino Specialmente in Champions League nella scorsa stagione Ed è quindi alla disperata ricerca di un nuovo tecnico Dato che comunque anche come abbiamo detto prima Pocettino ha le ore contate Ovviamente in pole position c'è Zinedine Zidane Che è il nome preferito dalla proprietà catariota Disposta veramente a tutto pur di avere Zidane Quasi un ingaggio si parla di 25 milioni di euro annui Quindi una cifra veramente monster E addirittura fonti parigine parlano di un non pressing portato avanti anche dal presidente della Francia Emmanuel Macron Quindi veramente stanno facendo di tutto in Francia per portare Zidane sulla panchina del Paris Saint Germain Però Zizou ha sempre rifiutato qualunque panchina Perché lui è interessato fino ad ora È interessato a raccogliere l'eredità di Deschamps Al termine appunto dei mondiali che si terranno questo inverno E quindi Zidane vuole subentrare alla Francia come nuovo CT E questa è la sua idea ormai da anni E quindi Zidane sembrerebbe aver rifiutato Non aver rifiutato praticamente la panchina del PSG Non ha dato la sua disponibilità a Luis Campos Che quindi deve cercare un sostituto E queste voci appunto, queste fotografie Non fanno altro che alimentare la possibilità di un Allegri Magari proiettato verso il mondo parigino Allegri che è legato con un contratto alla Juventus Lo sappiamo benissimo fino al 30 giugno 2025 Ha un stipendio da 7 milioni di netti a stagione Dicono fonti ufficiali che lui abbia ascoltato Luis Campos E poi abbia nicchiato sulla proposta E quindi ragazzi siamo parlando di un Massimo Allegri Che non se la sente di abbandonare la Juventus Dopo appunto questa annata deludente Dopo appunto questo zero titoli Questo zero trofei che non succedeva da bene 11 anni E quindi ragazzi stiamo parlando comunque di un Allegri Che è legato al mondo Juve Ma lo stesso Massimo Allegri non ha fatto altro che alimentare questo suo nervosismo Nei confronti del mercato della Juventus Quindi sì, Allegri ha accettato comunque di restare sulla panchina della Juventus Non vuole prendere nessun'altra proposta in considerazione Ma Allegri è impaziente Allegri è scontento per il mercato fatto fino ad ora da parte della Juventus Che praticamente annuncerà il solo Paul Pogba in brevissimo tempo Praticamente Pogba sì, è un colpo chiuso dalla Juventus E dovrebbe essere ufficializzato a luglio Ma lui vuole un altro campione come aveva appunto raccontato nella giornata di ieri Ed è veramente impaziente Allegri perché vorrebbe una rosa per tre quarti completa Per quando appunto lui deve ricominciare ad allenare la Juventus il 4 luglio E quindi ragazzi lui voleva Di Maria Vuole Di Maria a tutti i costi E queste titubanze da parte della Juventus sono veramente deleterie da questo punto di vista Lui vuole anche lo stesso Morata Vuole la permanenza di Alvaro Morata a Torino E anche Morata è un altro nome veramente lontano in questo momento dalla Juventus E quindi Allegri è insoddisfatto del mercato della Juventus Dobbiamo essere onesti Al Paris Saint Germain, in ambienti parigini Dicono che in pole position per la panchina del Paris Ci sia Christophe Galtier Che praticamente è un allenatore che ha lavorato già con Luis Campos ai tempi del Lille Ora è sotto contratto con Alnizza Ma è facilissimo da prendere praticamente Perché quando ti arriva una proposta del Paris Saint Germain Che appunto vuole mettere sotto contratto l'allenatore del Nizza È chiaro che si riesce a trovare la quadra al 99,99% Quindi dicono che ci sia in pole position Galtier E quindi comunque Allegri sarebbe dietro all'attuale allenatore del Nizza Per quanto riguarda le preferenze Però è chiaro che Luis Campos si sta guardando intorno Allegri quindi, versione ufficiale, ha rifiutato la proposta del Paris Per concentrarsi sul mondo Juve Anche se è scontento del mercato della Juventus fatto finora Vi do la mia nello specifico, il mio parere alla questione È chiaro che con questa situazione Allegri ha lanciato due messaggi alla Juventus Ovviamente in maniera involontaria Perché comunque lui avrebbe, secondo me, preferito che questo incontro restasse nell'anonimato Sicuramente non voleva essere ritratto in compagnia del Campos Il direttore tecnico del Paris Saint Germain Ovviamente per non alimentare pettegolezzi vari Però Allegri, secondo me, con questa fotografia ha lanciato due messaggi inequivocabili Uno ai tifosi Nel senso, guardate ragazzi, io ho rifiutato il PSG Perché sono concentrato al 100% sul mondo Juve E quindi c'è sicuramente da parte nostra, di noi tifosi Una dichiarazione da parte di Allegri nei confronti del mondo Juventus E chiaramente noi tifosi, è ovvio che tanti sperano nell'Allegri out Però magari i strenui difensori del progetto Allegri Chiaramente sono contenti di questo messaggio di Max Ovviamente io che sono contrario alla permanenza dell'Allegri sulla banchia della Juventus Proprio per una questione di coerenza rispetto al mondo passato È chiaro che nei miei confronti non lancia nessun messaggio Ma il secondo messaggio è rivolto alla dirigenza bianconera Cioè, ragazzi, guardate che io sono desiderato sul mercato Ragazzi, guardate che a me fanno la corte i più grandi club del mondo In primis il Paris Saint Germain Quindi ragazzi, svegliatevi voi della dirigenza Cercate di accontentarmi Perché io potrei appunto lasciare la barca E andare al Paris Saint Germain qualora lo voglia E quindi ragazzi, questo è un secondo messaggio Allegri scontento del mercato Allegri che è corteggiato dal Paris Saint Germain Dirigenza Juve, svegliati Questo è il secondo messaggio che secondo me è in equivocabile Che appunto lancia Massimo Allegri nei confronti della dirigenza bianconera Su questo messaggio sono tra virgolette d'accordo Nel senso non in toto Ma sono d'accordo nel senso Allegri se appunto ha ricevuto la conferma sulla panchina della Juventus Deve appunto essere accontentato E nei prossimi giorni uscirà un mio video sul mondo Juve Perché ragazzi vi racconterò in questo prossimo video Come la Juventus sul mercato è veramente in ritardo E quante operazioni deve fare la Juventus sul mercato Perché quest'anno sarà rivoluzione Una Juventus che è in ritardo sul mercato E quindi Allegri lancia questo messaggio Juventus muoviti perché io sono scontento nel mercato Siamo in ritardo e quindi attenzione Ragazzi questo è il mio commento Alla tanto chiacchierata foto fra Allegri e Campos Fuori all'hotel de Paris di Monte Carlo Adesso ragazzi tocca a voi Ditemi la vostra nei commenti Cosa ne pensate voi di questa fotografia E come andrà il futuro Sarà veramente un Allegri out Un Allegri verso il Paris O sarà un Allegri confermato al 100% Anzi un mercato che a questo punto accelera Per quanto riguarda la Juventus Ditemi la vostra nei commenti Mettetevi like se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi a questo canale Se non potete perdere nessun aggiornamento Sui miei video futuri Ragazzi vi saluto Ciao a tutti da Domenica Versa Ciao a tutti raga